Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Una vasta operazione di polizia giudiziaria su ordine della Procura della Repubblica di Torri annunziata è stata eseguita dalla Guardia Costiera della Campania per gravi reati di disastro ambientale collegati alla raccolta dei datteri di mare nella penisola sorrentina. 21 misure cautelari tra le regioni della Campania, la Puglia, la Lombardia e la Liguria. Per la raccolta illegale dei datteri di mare è stata devastata la costa rocciosa della penisola sorrentina e della costiera amalfitana, coinvolti anche i titolari delle pescherie utilizzate come rivendite dei datteri di mare, specie protetta che impiega 20 anni per scavare la roccia. Sequestrati anche 5 box destinati al deposito e allo stoccaggio dei datteri di mare, auto, moto, mute subacque, bombole per l'immersione e diverse attrezzature da pisca. I reati sono quelli di danneggiamento aggravato, distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, distruzione di bellezze naturali e commercio di sostanze alimentari nocive. I dettagli dell'operazione sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa presso la procura di Torre Annunziata, dal procuratore Nunzio Fraiasso e dall'ammiraglio Pietrovella, direttore marittimo della Campania. Disastro ambientale su oltre 6 km di costa della penisola sorrentina, accertamento effettuato sulla base di studi scientifici effettuati dall'Università Partenope, dal CNR e dalla stazione zoologica Antordorn. I consumatori consigliamo di astenersi dall'acquistare i datteri di mare. Per tutto quello che si diceva, i datteri di mare nella fase della cattura producono dei danni irreversibili all'ambiente, distruzione delle rocce, dei fondali, degli scogli. Quindi è importante che la gente, conoscendo queste conseguenze, si astenga dall'acquistare i datteri di mare. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, incalza sulla necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione scolastica per riaprire le scuole in sicurezza in presenza a settembre. Nonostante siano aperti 10 centri vaccinali nel territorio dell'Asla Napoli 1, non abbiamo ancora un livello adeguato di iscrizioni di vaccinazione per la fascia al di sotto dei 18 anni. Si devono vaccinare, non è un obbligo, ma è un'indicazione. Se abbiamo un istituto scolastico con solo il 10% dei ragazzi vaccinati, si farà didattica a distanza. Non c'è niente da fare, non possiamo creare focolai con le nostre mani. Intanto scoperta una rete di green pass falsi venduti online, a indagare la polposta di San Giovanni a Teduccio, che sta passando al setaccio esposti segnalazioni e soprattutto i portali dei social network, sui quali sono comparsi gruppi che annunciano di poter garantire, previo pagamento di 100-200 euro, il rilascio del green pass, ovviamente fasullo, a chiunque comunica attraverso una chat. Insomma, ci sarebbero dei Novax disposti a comprare il green pass fasullo, pur di poter usufruire dei servizi che dal 6 agosto saranno ad appannaggio soltanto di chi ha il certificato valido. Un cimitero di alberi tagliati, un deserto di aiole bruciate, spazzature e degrado, è questa la cartolina che arriva da Posillipo, dal Virgiliano, un colpo al cuore quotidiano per chi transita Viale Virgilio per raggiungere il centro città. Un tempo era uno dei Belvedere, luoghi di città più ambiti, per passeggiare e trascorrere ore serali. Oggi il parco, la zona antistante e il Virgiliano sono l'emblema di un'amministrazione che per anni ha trascurato il verde pubblico. L'abbattimento dei pini marini, più di tre anni fa, grida ancora vendetta, a bacchettare la giunta dei magistris il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Non siamo stati ascoltati né dal comune né, devo dire la verità, dalla sovrintendenza, perché ad esempio alcuni degli alberi, tipo mi riferisco ai pini del Virgiliano, sono alberi vincolati dal piano paesaggistico e praticamente noi abbiamo chiesto di cambiarlo questo piano paesaggistico, ma non siamo stati ascoltati. Bisogna ricostruire il verde e far tornare Napoli con delle condizioni di verde accettabili. In questo momento siamo a meno di zero e tra l'altro col caldo il verde, le piante e gli alberi sono una delle difese migliori che potremmo avere. E invece purtroppo continua a esserci un disinteresse e una sciatteria amministrativa veramente inaccettabile. Decine e decine di bagnanti in acqua nel mare di Napoli, malgrado il divieto di balneazione in vigore da sabato scorso su buona parte del litorale cittadino. L'ordinanza del comune, firmata venerdì sera, è giunta all'improvviso in piena stagione turistica alla vigila di una settimana scandita dall'emergenza ondate di calore. Già nel weekend i trasgressori erano stati numerosi in assenza di controlli. Gli abituai dell'idoma a padella stamattina ai nostri microfoni si dicono tranquilli, anche se in molti hanno affermato di non fare il bagno ma la doccia o di evitare di andare con la testa sott'acqua. Io lo faccio però un semi bagno, nel senso che mi bagno fino al collo, però non mi bagno la testa, quindi perlomeno evito di ingurgitare acqua che potrebbe essere inquinata, per cui naturalmente conosciamo gli effetti dell'acqua di mare inquinata, ci ricordiamo il colera e quindi naturalmente non vorremmo ritornare agli anni 60 o 70. Lo faccio però non nuoto, non vado sott'acqua, nuoto a rana. No ma io lo faccio sempre comunque, vi dico, da quanto tempo vengo qua, non ho mai preso in mezzo. Io no, vado sotto alla doccia a bagnarmi, prendo il suono, però prima mattina ho visto le persone, pochissime persone, tre persone, che si sono bagnate, mi sono bagnate i piedi. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.